Sono appassionata di moda, la seguo, mi diverto e abbiamo appunto l'avigliamento. Insomma per il mio lavoro è anche fondamentale. Alla fine c'è cosa, ci sono tante modelle che amiro, però magari ho anche alcuni, però diciamo che per la moda ho sempre cercato di metterci dentro. Mi piace copiare e evitare, quindi secondo me il nostro lavoro è fondamentale, sennò saremo tutti tutti uguali. Cosa non può mancare nel tuo armadio? Cosa non può mancare? Allora, i jeans? Sicuramente. E poi le gioche di pelle che io amo, e poi penso che la passione più grande sono sempre le scarpe e le gorse. Quante paio di scarpe? Quante paio di scarpe ho? Non ho mai contato se posso mettere una vita. Questi vari giornali scandalistici che operano ogni tanto qualche flair. Ma sì, fa parte del gioco alla fine, perché sai, dopo un po' nome single cercano sempre di trovare il primo fidanzato, però io ho ancora nuovi fidanzati, non ne ho, quindi lasciamo il dubbio su questi dai.